Doveva andare in carcere, ma era ancora libero, in manette e finito un quarantenne di origine marocchine, senza fissa dimora e con precedenti pespacce e rapina. L'uomo è stato fermato domenica pomeriggio dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Seregno. Durante l'attività di spattugliamento, in corso Giacomo Matteotti, hanno riconosciuto il noto pregiudicato che camminava sul marciapiede. Sottoposto a un controllo di routine e consultata la banca data informatizzata, è emersa a suo carico una condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione per vari reati commessi, proprio a Seregno tra il 2014 e il 2022, per i quali era stato più volte arrestato. Tra questi, due tentate rapine avvenute nel settembre 2014 e nel febbraio 2016, spaccio di cocaina nell'ottobre 2022 e una resistenza pubblico ufficiale a dicembre, quando durante un controllo, sotto l'effetto di alcol e stupefacenti, era andato in escandescenza, tanto da dover costringere i militari ad arrestarlo. Il marocchino, ricercato da aprile 2023, al termine degli accertamenti effettuati nella caserma carabinieri di Seregno, è stato trasferito nel carcere di Monza, dove sconterà la pena.